bentornati raga e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi oggi video totalmente diverso sapete che nel nuovo anno tiro fuori anche queste chicche ragazzi abbiamo sempre voluto scaricare video e musica da youtube ed effettivamente si può per ogni volta andare a cercare il link per scaricare video e quindi ragazzi metodo assurdo guardate come si fa bella raga allora ragazzi come possiamo vedere potete sentire raga questo fantastico pezzo io lo voglio scaricare voglio l'audio di questa canzone oppure il video ragazzi come facciamo semplicemente da youtube stesso con il computer quindi ragazzi andiamo guardate bene in questo punto in alto a sinistra dove c'è scritto youtube.com e dobbiamo cliccare in questo punto a questo punto ragazzi una volta che clicchiamo cambierà il link vabbè quello è normale e qua dopo la scritta youtube prima del punto dobbiamo scrivere 5s ragazzi e a questo punto invio ci aprirà raga questo sito dove potremmo scaricare la musica o direttamente il video guardate che bomba praticamente qua abbiamo tutti i vari format abbiamo in mp3 in mp4 fino a in 1080 ragazzi è assurdo quindi se vi è servito questo video lasciate un like commentate seguitemi ragazzi iscrivetevi a twitch e alla prossima sbada bam